In Puglia una nuova piattaforma per la diagnosi precoce dei tumori al fegato, la seconda in Italia ed è stata acquistata con i fondi del 5x1000. Tutto questo presso i laboratori di ricerca dell'Istituto Nazionale di Gastroenterologia De Bellis di Castellana Grotte. Una modernissima strumentazione che consente il dosaggio simultaneo di tre biomarcatori. Il passo in avanti della ricerca scientifica è rappresentato dall'aver ottimizzato il metodo per dosare questi biomarcatori e poter quindi disporre di dati assolutamente affidabili. L'Istituto De Bellis validerà l'efficacia di questo algoritmo come strumento per predire l'insorgenza del carcinoma al fegato, delle recidive dopo la terapia nonché della risposta alla stessa terapia, aprendo così nuovi orizzonti nel governo clinico di questa malattia letale. L'acquisto di questa importante strumentazione è stato reso possibile grazie al contributo del 5x1000 devoluto dai contribuenti in favore dell'Istituto De Bellis che ha investito le risorse finanziarie per offrire una nuova ed unica diagnostica al cittadino.